Radio Torre Live, la tua città, la tua radio. Radio Torre Live, la radio sui social. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi siamo in Toscana. Posso far vedere anche il castello, se li metto qua, vedete? Si vede? Si vede, si vede, c'è il castello. Comunque c'è il castello. Stiamo facendo una passeggiata all'ombra anche del tempo, perché insomma non è proprio molto soleggiata. Però si sta bene, c'è una bella rientina. Quindi voi state lì, vi facciamo vedere un po' di immagini della cittadina di Omtremoli. Qui siamo sul ponte Cesare Battisti. Altra bella realtà. La realtà, il fiume, il teatro, la rosa. E questa è Porta Parma. I resti del vecchio ponte. E questo è il ponte, ovviamente, quello nuovo. Il ponte Spagnoli. E questo è il ponte, dove una volta ci si accontentava di un gelato o di una bibita. E questo è il modettino, dove si giocava con le biglie. Un po' via Garipaldi. Angolo suggestivo, sdrucciolo del castello. Spontiamo il ponte. Attraversiamo il ponte della Cresa. Un po' via il pa比 lean. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.